Scrivo in questo modo, dimmi che ci posso fare Se il sapore delle rime con il pane è un pasto familiare Partito da lontano arrivo fino a qui Anche se prendi un fiume secondario Io ti conosco, sei il traghettatore mercenario Mi hanno dato due monete per te Che è la percezione dei soggetti come mone Mi hanno detto che devo portare la tua voce al trove Così non sentiranno le tue parole Amico, chi ti paga non va bene niente Un osso a caccia di salmoni controcorrente Se vuoi le rime porta via pure me Maldrò che due monete tira fuori i cash Ehi, ehi, poi tu non mi ascolti I tumori sono già morti e sepolti Adesso fa una roba molto diversa Che fa tipo solo il team della festa Non è questione di king o tutu Non è questione di plug in sugo Non è una gara tra chi veste più cool Ma di un concetto di stile make-through Insomma dimmi che hai deciso di fare Dammi le tue strofe che le devo portare Dall'altra parte del fiume nell'Ade Puoi sempre stare a guardare C'è sempre uno che sta pronto a distruggere E che ha la stoffa solo per imbavagliare gli altri Ma non importa, io continuo a dipingere Come Monet Sì, ma la mia tela è un quattro quarti E che ha la stoffa solo per imbavagliare gli altri